Musica Riccardo Carlini anche oggi protagonista di Cassino Fiorentino di una buona partita e si è entrato in forma subito Vabbè sì, c'è un fisico che non ha bisogno di tanto tempo anche se stiamo facendo carichi di lavoro piuttosto intensi quindi si vede un po' che non siamo tanto brillanti però è giusto così Ecco, Capuano ti chiede la doppia fase sia il non possesso che la spinta è un lavoro difficile? Vabbè, le mie caratteristiche comunque sono quelle sono un terzino un po' adattato quindi se posso spingo anche un po' però quello che mi chiede cerco di fare il mio fisico comunque mi permette di avere una buona corsa quindi cerco di farlo al meglio Ecco, su 3-5-2 come ti trovi? Maggio giocare 3-4 anni che gioco con questo modulo ma lo conosco abbastanza bene Senti, il tuo impatto con la nuova realtà sei reduce da un'esperienza positiva con il Real Vicenza quindi conosci bene l'Arezzo perché l'hai affrontato nella passata stagione Sì, è la prima squadra che ha interrotto la nostra lastriscia positiva di 13 partite a punti ma con molto entusiasmo il mister mi ha voluto fortemente la piazza è una gran piazza quindi secondo me si può far bene adesso ci mancano un paio di giocatori infortunati qualcuno arriverà secondo me possiamo fare molto bene Ecco, puoi sintetizzare la tua carriera? Eh, iniziata... avevo fatto le giovanili del Genoa poi è iniziata male perché mi sono rotto la gamba il primo anno poi piano piano stiamo cercando di fare il meglio possibile Bene, bocca al lupo! Crepi, grazie! 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 Grazie!